Si apre con una sconfitta in tre set la serie di semifinale della Igor Volley di Lorenzo Bernardi, KO a Treviso contro Conegliano, che mantiene così inalterata la propria imbattibilità stagionale. Non basta Bosetti, 13 punti, migliore delle sue, alle azzurre per tener testa alle Venete, trascinate dalla diagonale Volos H e protagoniste di una prestazione eccellente. Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, a piedi mulera.